De Agostini, Schillaci troppo isolato in avanti dove vedercela con Serrisuela e vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via Calibra poi bene su De Napoli da questi a Bialdi verso Giannini, il saluto di Giannini colpo di testa, Bialdi tiro e un gol di Schillaci ancora Ancora Dodo, ancora Schillaci sul primo apporto italiano e il suo momento magico Ha fatto partire lui l'azione e poi così si è liberato in pratica della marcatura, ha avuto la forza di continuare a seguire l'azione che era portata avanti dai suoi compagni E poi si è trovato lì come sempre, è il momento giusto Eccolo ancora il quadrato e il suo quinto successo personale, rivediamo il tutto Vedete Schillaci che dà De Napoli molto bene, De Napoli non intercetta Giannini, il tocco di Bialdi per Giannini Bravissimo Giannini che salta un avversario in pallonetto, poi colpisce di testa, arriva Bialdi per la battuta al volo La respinta di Goico e cea Eni, Schillaci e la butta di Bialdi